Siamo qua con Edoardo Padovani per la presentazione delle nuove maglie Macron, ma pensiamo un attimo al recente passato, è finita una stagione difficile, di crescita, con poche soddisfazioni, magari ogni tanto sfiorate, come giudichi quest'ultimo anno in azzurro? Guarda ti dico, con le Zebra è stata una stagione difficile, ci sono stati tanti casini con la società e noi di contro come squadra, come gruppo abbiamo cercato di dare il massimo come al solito, con le nazionali ti posso dire che è un gran bel gruppo e secondo me ci sono tanti tanti margini di miglioramento. Che cosa ha dato secondo te in questa prima stagione Conor e il nuovo staff in più a questa squadra? Almeno personalmente posso dirti che è stato veramente un grande impatto professionale, nel senso che Conor, Mike, Gusen e De Carli sono stati veramente professionali in quello che hanno fatto, tutto quanto. Quindi secondo me ci toglieremo delle grandi belle soddisfazioni. Parliamo di te, manca l'ufficialità anche se il presidente Bugliela l'ha detto ai tifosi, l'anno prossimo diciamo probabilmente giocherai a Tolone. Che cosa si prova? Voglio dire, è una delle squadre più forti al mondo, delle più ricche, proprio come qualità dei giocatori. Quindi andrei a sostituire virtualmente l'Italpenni, che cos'è? È veramente un sogno, l'ho già detto, lo rimarco, è stato proprio un fulmino a ciel sereno, nel senso che non me l'aspettavo assolutamente una chiamata del genere. Ovviamente ci speri sempre, ma quando succede davvero è veramente una cosa incredibile. Ultima cosa, visto che alcuni tifosi sono preoccupati, visto che in passato è successo, la firma con Tolone non ti toglie la maglia che è addosso adesso, vero? Dirà di no, spero di no. Non c'è nessuna clausola? Assolutamente no. Assolutamente no.